Gioielli e sportelli, ognuno persino in fatto di scippi o di furti, ha i suoi gusti. E a finire le guai sono due uomini di brindisi pizzicati dai carabinieri nelle scorse ore per due distinti episodi. Il primo è quello che ha portato all'arresto di un 47enne accusato dello scippo di alcuni moni di noro. Furto con strappo, insomma, dal collo di una sfortunata 64enne che mentre era alla guida della sua auto con il finestrino aperto su via Appia si è vista derubata dal 47enne, abile a strappare le collanine e a fuggire via. Una fuga però durata a pochi minuti. La vittima ha immediatamente allertato il centralino dell'arma con i carabinieri del norm che hanno subito rintracciato il furfante e recuperato la refurtiva, poi restituita alla proprietaria. Lo scippatore, dopo le formalità di rito, è stato ristretto ai domiciliari. E poi gli sportelli, o meglio, lo sportello di un'auto, ovvero una Fiat Panda, smontato o rubato, poi installato sulla propria autovettura. Episodio avvenuto lo scorso 27 luglio e denunciato dal derubato ai carabinieri della stazione di Brindisi Centro, abili in pochi giorni a identificare il ladro, poi denunciato a piede libero e a recuperare lo sportello.